Ciao amici di sole, sono Fabio Nezac. Un pensiero oggi. Trattiamoci con amore al mattino, al pomeriggio, a mezzogiorno e alla sera. Si sa che il pensiero positivo aiuta tantissimo, ma abbiamo mai provato veramente a provare uno stato di innamoramento per noi stessi? È la cosa che ritengo più utile a me e servita tantissimo. Ogni giorno, sono solo tre volte al giorno, alla mattina, svegliati, percependo dentro te la vibrazione dell'innamoramento, solo per qualche secondo, così a mezzogiorno, così alla sera, prima di andare a dormire. Devi semplicemente percepirla partendo dai polmoni, perché è la parte che di noi più è associata alla ricerca del branco a livello biologico, comunque della famiglia, perché te me l'abbandono. Se vuoi guarire la ferita che non ti porta a vivere una storia, per esempio, sentimentale, appagante, riconoscila come fonte di un abbandono, come qualcosa che nasce dalla paura dell'abbandono. Queste ferite ce le portiamo sempre, più noi ci sintonizziamo con le nostre antenne, attraverso quello che io chiamo il secondo cervello, a quella che è la vibrazione dell'amore, più noi vivremo nella passione, perché noi siamo esattamente ciò che pensiamo. Un abbraccio da Fabio Netzach Grazie a tutti.